e quindi entriamo nella morsa di un altro lockdown che durerà quasi per tutte le vacanze di natale un po' arancione un po' rossi più rossi che arancione e uno dei grandi temi in questo momento e anche ne stanno parlando in tutto il mondo i sussuologi, i sociologi, i psicologi, i psichiatri insomma si stanno muovendo tutti perché c'è un problema legato anche al sesso e se togliamo il caso legato all'Ori del Santo e alla dichiarazione che ha fatto qualche ora fa alla trasmissione di Radio 1 un giorno da pecora dove ha confessato che col suo ragazzo di 28 anni lei ne ha 62, ha sempre meno voglia di fare sesso però quando i conduttori gli hanno chiesto ma qual è il tetto massimo settimanale lei ha risposto ci accontentiamo di quattro volte alla settimana quindi insomma una risposta diciamo piuttosto adeguata per un argomento delicato su questa cosa naturalmente sui giornali, sui social si è aperto un dibattito e insomma è come parlare di corda in casa dell'impiccato perché invece dall'altra parte gli esperti dicono attenzione a fare sesso ai tempi del covid, bisogna stare attenti al bacio non bisogna dare mai baci sulle mascherine per esempio, bisogna stare attenti all'igiene anche se è vero, dicono che non è stata accertata una trasmissione per via sessuale bisogna stare attenti perché per contagiarsi basta appunto la gocciolina di saiva veicolata dal respiro quindi c'è poi tutto diciamo il discorso legato al sesso sicuro e in particolare bisogna stare molto attenti soprattutto se i rapporti sono occasionali bisogna sempre lavarsi continuamente con acqua e sapone questo dicono gli esperti ma il grande tema è quello di chi vive relazioni a distanza quindi di chi non ha la possibilità di potersi abbandonare così ad effusioni e soprattutto i single in Belgio hanno trovato l'amico di Coccola che può andare a casa anzi ne possono essere autorizzati due per avere diciamo queste frequentazioni e poi naturalmente c'è tutto quello che invece passa attraverso la rete e su questo le coppie diciamo che non vivono insieme o le coppie che in qualche modo si stanno studiando e stanno cercando di trovare una loro strada possono utilizzare la rete con il sesso virtuale e poi c'è anche il dating con addirittura Facebook che ha lanciato questa applicazione che permette di trovare l'anima gemella utilizzando già i dati che sono presenti e che noi abbiamo messo a disposizione di questo social network insomma sono tempi duri a parte l'Ori del Santo sono tempi duri per chi vuole fare sesso di questo dobbiamo prenderne atto e quindi buon lockdown a tutti